Danza per me è sempre stata vita, passione, orgoglio, sentimento, chi più ne ha più ne metta e continuo a ripetere che c'è bisogno di tanto sacrificio, tanta passione soprattutto e quando dicono che la danza non è per tutti non è vero, può essere per tutti soprattutto quando comunque una persona ci si impegna e prova tanto amore. Ho provato un'emozione bellissima perché è da stamattina che mi sento emozionata, agitata perché l'ho vissuta in una maniera diversa, tutto il contesto era, non lo so, molto più easy, più bello. Secondo me unire la danza allo sport o comunque alla salute è una cosa fondamentale che in tanti dovrebbero capire e speriamo che con questa cosa riusciranno a capirle in parecchio. Il consiglio che do è fare tanto sport sicuramente, principalmente lo sport è essenziale, un'alimentazione sana, godersi la vita perché è importante, perché ce n'è una sola e avere cura di se stessi.